Popolo del tubo buonasera ecco qua sono tornato raga sono mancato qualche giorno vi chiedo scusa ma ho avuto un po' di cosette da fare Poi i contenuti come sempre non è che sono molto gagliardi ma oggi sono tornato perché un po' sorpreso ho sbloccato un Bappe Pot Ma neanche io pensavo di farlo adesso poi vi spiego il perché e perché diamo un'occhiata alle ultime sbissuscite che comunque qualcosa di carino c'è Quindi ci spostiamo su FIFA Eccoci tra l'altro barba ovviamente che presto verrà tagliata non vi preoccupate sembra che ho 50 anni ma non è così Non è così devo ancora farne 25 quindi non mi date del vecchio Allora partiamo da un Bappe Pot Ho sbloccato un Bappe Pot Perché l'ho sbloccato? Ho venduto il Toti un po' mi ero stufato poi adesso andiamo un po' verso la fine Quindi volevo provare qualcos'altro Ho comprato Viera Moments che ho provato che è utile per carità tutto quello che volete però non è divertente Per il resto è una bestia raga clamoroso però lo venderò per magari provare un Digno o qualcos'altro Ho sbloccato un Bappe perché mi serviva finalmente un esterno Non ho più le restrizioni per il competitivo o altro mi serviva un esterno raga E voi direte vabbè perché non hai preso il Rule Breaker o il Moth Avete ragione però io il Rule Breaker l'avevo già comprato raga no? Il Rule Breaker di Mbappé ai tempi Non avevo notato una differenza incredibile dal base Poi è uscito il Toti Ho provato il Toti e c'era molta differenza dal Toti Questo è un Bappe Pot Molti altri provo mi hanno detto guarda che è rotto Sapete non è una classica frase è rotto Guarda che rende più di quello che dice Guarda che qua guarda che là Molti in chat molti di voi mi hanno detto la stessa cosa Allora ho detto sapete che c'è C'ho un po' di non scambiabile Ancora l'ho pagato un milioncino Mi sblocco Stombap e Pot Mi vi do fiducia Poi fa sta cosa che non so se indica Vabbè qualcosa Tira basket non lo so Carta molto figa E effettivamente Stombap è una bestia raga Io credo che sia un po' come l'anno scorso con Neymar Vi ricordate quel Neymar alla sfera e basta Che era uscito con i capelli rosa Eccetera Tutti dicevamo ma perché? Perché c'è l'altra versione Nessuno ricordo le versioni Neymar all'anno scorso Ma c'è l'altra versione Compra quella Poi Ston Neymar un mese dopo Tre settimane dopo dicevano tutti Cristo Ma Ston Neymar è rotto Cioè è molto più forte di quello che dice la carta Stombap e mi pare un po' la stessa cosa Perché? Perché vabbè io il base non l'ho mai più usato Ma il rule breaker come vi ho detto Non era come questo Soprattutto nei movimenti e nell'agilità Io adesso le stats non le ricordo di preciso Ma credo che siamo più o meno lì Eppure in game vi assicuro Che tra questo e il Toti Che costa 5-8 Non ci ballano 4-5 milioni Il Toti è più forte Ci ballano 3 milioni 2 milioni e mezzo 3 in più Ok ci stanno Ma non così più tanto Di quanto direbbe la carta Perché? Dai passaggi più o meno siamo lì Ok? Anche il Toti Non è che passa benissimo la palla Un po' meglio la passa Ma non c'è una differenza abnorme L'agilità e la palla al piede È clamoroso Il Toti ce l'ha un pelo più incollato È un pelo più agile Ma anche questo Ha un gran bel dribbling Il tiro Anche il Toti si caga i gol Per chi di voi l'ha provato lo sa Il Toti è così Soprattutto di Mancino A volte si mangia gol incredibili Questo è un Bappé Motman Potman finalizza un botto Non quanto il Toti Ma di poco Si caga qualche gol Ma per un milione Cioè Tanta roba raga Ma anche per un milione e otto Io il Motman non l'ho provato Quello S della Champions Sono onesto Però credo che se il Rule Breaker Non si sente una differenza enorme Anzi Questo sembra più forte Credo che a questo punto Questa sia la miglior carta Che potete andare a prendere Dura ancora qualche giorno Se avete Mbappé base E vi piace O l'ho sentito ormai obsoleto Per me è da fare assolutamente Io l'ho usato tanto esterno Che mi fa impazzire Per me Mbappé è stato più forte del gioco Cioè Non l'ho mai usato in competiti Perché non si poteva Causare restrizioni Ma per me Mbappé è più esterno Che punta È forte anche la punta Perché lo sto usando anche la punta Però Da esterno Per me è fantastico Perché è esplosivo Regge fisicamente Veloce Agile Passa discretamente bene la palla Ha comunque una stamina Più che accettabile Perché ha 90 Quindi a me da esterno Piace tantissimo E per me è l'esterno migliore del gioco Questo l'ho sempre pensato raga Solo che ripeto Non potevo usarlo Causare restrizioni Da punta Neymarif Forse è leggermente più forte Però Neymar ovviamente Non è esplosivo Come Come Mbappé Più gracilino È un po' diverso Se vi piacciono le punte esplosive Mbappé è più forte Di Neymar base È più forte anche la punta Anche se io preferisco Neymar raga Ma proprio tutta la vita Cioè Neymar base la punta Fa fatica ormai Mbappé Ma basta Costo Motme È il Potme Zio porco Mbappé Mot Potme Da punta è più forte Scusate Adesso torniamo con posti Di Cristiano base È più forte Se già mi parlate di Cristiano Infraga Lì non lo so Perché lo sapete che io Ai tempi avevo provato il base Non mi piaceva Dall'IF in su Mi piacevano Io ho provato solo il 93 Il base e il Totti Di Cristiano Questo Non ha senso Il 95 Dicono che sia più o meno Simile a questo Io non lo so Non l'ho mai provato Però da punta Se parliamo di Cristiano Inf prenderei sempre Cristiano Inf Anche se sono diversi Raga Perché Mbappé Potme È più Come già vi dicevo Mbappé Totti Cristiano Totti Fa gioco Si muove di più Dribbla più preciso Nello stretto Ovviamente Un giocatore che finalizza Come Cristiano Anche solo l'IF Ma anche solo il base Raga Non c'è Cristiano è proprio Il finalizzatore Per eccellenza Poi Ha la palla un po' lontana Dal piede Le solite cose di Ronaldo Però Questo Mbappé Pot Mi sento assolutamente Di consigliarlo Tra l'altro Sto usando a 7 Raga Zero differenze Come sempre Vi dico che fa tutto Quello che deve fare Poi magari lo proverò Anche a 10 Sia in fascia Sia come punta Per me Se pensate di tenerlo Perché io comunque Lo tarrò anche sotto i Toz Raga Lo piazzerò esterno Lo tarrò anche sotto i Toz 99% Ma se comunque Pensate di usarlo Almeno un mesetto Per me ci sta Ci può assolutamente stare Soprattutto chi magari Ha iniziato dopo Raga Ancora Mbappé base Però un po' di non scambiabili Per me Questo Mbappé Ci può stare assolutamente Farlo Poi ripeto Raga Se volete evitare Di bloccare non scambiabili Prendete il Mott Prendete il Il Record Breaker Io l'ho sbloccato Perché comunque L'ho pagato 800k E meno Se lo pagate meno Di quanto andreste Di quanto andreste ad acquistare Le altre versioni di Mbappé Sul mercato Ci può stare a farlo E' una carta che appunto Mi è piaciuta Veramente Veramente Tanto Non pensavo Perché io Ve l'ho detto Quando è uscito Vi ho detto Ma Lasciate perdere Uguali agli altri Che serva da lezione Per me Steve Potman O qualcosa in più Come Bruno Bruno dall'89 Per carità Cambiava Io ho provato solo l'89 Il 92 Il toti di Bruno Cambiava Bruno Dall'89 A livello di stats Però in game Questo Bruno qua La prima volta che lo provavo Ho detto No vabbè Ma l'89 in confronto Era un cesso Cioè non difendeva Non intercettava Mollo nei contrasti Lento Ho capito Qualche più 2 Più 3 Più 4 Magari la velocità Adesso non ricordo Però cazzo Sembra un altro giocatore Potman per me Sono sempre un po' Overboostati Poi magari è un complesso Giocatore da FIFA Questo non lo so Però ragazzi Ripeto Mbappé Stra Stra Consigliato Non vi ho parlato Una gameplay review Perché sti giorni Sono stato un po' incasinato Ma comunque questo È un po' Il succo del discorso Tanto Mbappé Più o meno lo sapete Com'è Cioè ve l'ho detto La cosa sorprendente Ma potete chiedere anche ai ragazzi Sul mio gruppo Telegram Eccetera Cioè si fa Fa un sacco di gol Che fa il Totti E se ne caga pochissimi In più di quelli Che anche il Totti Già si caga E il dribbling Siamo lì Veramente tanta roba Poi ultime sbc uscite Allora sono usciti Questi 4 showdown Dzeko Non lo consiglio A meno che non siate fan o altro Lo sapete Ma non penso che devo dirvi 1,93-1,95 di forza È una punta Che se sapete usare Per me utilizzabile Perché comunque Finalizzatore pazzesco 5 pieni debole Magari potrebbe prendere l'app Però non è un giocatore Neanche lontanamente in meta Proprio Neanche lontanamente Però Se vi siete stufati Se volete una serie A Eccetera E Siete fan Perché no Ovviamente tutti gli altri Che ci sono già Meglio Da utilizzare con motore Per me Nerish È una gran bella carta Raga È una gran bella carta L'ho visto anche in qualche live 5-4 Per me meglio di Neymar Base Sulla fascia Da punta Forse andrai sempre Su Neymar Perché mi hanno detto Che comunque il destro È un po' quello che è Però Guardate che gran bella carta Soprattutto in caso di upgrade Anche se Forza Roma Ovviamente per i nostri amici romani Da casa Però Dalla fascia Raga Per me è clamoroso Ovviamente è un po' difficile Ibridare Perché alla sinistra Brasile Ajax A destra Magari avresti fatto un 4-5-1 Con Klyber Non so se qualcuno Vai a Gravenberg Ancora Magari con qualche Icon brasiliana Ce la fate Però Diciamo che Non è facilissimo Ibridare Da sub Sicuramente forte Però eviterei Perché comunque Tra un po' ci sono i toz Raga Ce ne sono altri Di sub Sicuramente ne avete altri Però La carta è pulitissima Ripeto Secondo me Sulla fascia Questo vola Molto più di Neymar Base Oif Mbappé più forte Per me di questo Sulla fascia Se parliamo del Potme E delle altre versioni Dal base in su Il base ovviamente Rimane sotto Quindi per me Questo nerf È usato in fascia Raga In fascia perché Ha buoni passaggi Veloci Agile Tiro Che comunque 88 finalizzazione 87 potenza tiro È una buona stamina E poi costa 180k Qualità prezzo Assolutamente top Stile intesa Se lo utilizzate Da qualunque parte Finalizzatore Per me è classico O cacciatore Se proprio volete Boostare Anche la velocità Al massimo Poi Tolisso Lascierei perdere Raga perché In punti Se è pieno di mediani Goretzka Zagaria Emre Can Lasciate perdere La carta Non è nulla di gay Parliamoci chiaro Tre piede debole Alto normale Con buone stats Offensive Discrete stats Difensive Però è un giocatore Che non eccelle niente Raga Non attacca benissimo Non difende benissimo In più Ripeto Cioè Tre piede debole 81 di agilità 80 di freddezza 80 di equilibrio 82 di dribbling Le alternative ci sono Perché ci sono Quindi lascerei Perdere Tolisso Kerer L'ho sbloccato Su rotto glory Ve lo proverò raga Ve ne parlo adesso Senza averlo provato E magari lo sbloccherò anche qua Dicono che sia clamoroso Veloce Non patisca troppo la forza Un bel body type Bello lungo Poi 5 piede debole Che non fa mai schifo In caso di up Tanta tanta roba Ovviamente Anche qua Per carità Tra un po' ci sono i tots Però qua abbiamo un bel dc Perché con l'upgrade Sarebbe assurdo Però chi l'ha provato Mi dicono che anche senza upgrade E' veramente tanta tanta roba Baran base Per me Sta sotto Perché ovviamente Ha raggiunto il suo tempo Adesso non posso fare un paragone Con tutti i dc e i td del mondo Raga Perché lo sapete Che ce ne sono mille In sto gioco Però vi posso dire Che se riuscite a bridarlo Magari appunto con Bappé Senza fare Casini della madonna Sia chiaro Quindi Non mettendo quello a 7 Quell'altro adatta Cioè Keran Avete Mbappé Avete Gurzavo Che l'avete sbloccato Avete un icon Come Zambrotte Che vi da un link Un portiere icon Ok Oppure avete una bundes Se l'ho piazzato in una bundes Per me Se come dicono Io poi ve lo proverò Intanto sto digerendo Uno gnocco Al castelmagno E il pecorino Che ho mangiato dopo Che Vorrei farvi la top 10 Dei film Tra l'altro Dopo quella sulla cucina Ve l'ho detto Ve l'ho detto su instagram Adesso vediamo un attimo Se farla Dicevo Carta Che è pazzesca Per essere un DC Quindi questo è consigliato Con ombra Per me Io ve lo proverò Poi se volete aspettare Vi porterò un altro feedback Nel video che uscirà poi Però la carta La cosa ho sentito La cosa ho visto In qualche streaming Da come me ne parlano I ragazzi in chat Che anche quello È un parere importante Magari più da casual player Di magari streamer o altro Vi posso dire che è eccezionale Cioè È alto Non è lento E fisicamente Essendo alto E un po' spessotto Non patisce troppo Quella forza Quindi per me Superiore a Varambaz Hermosso Diego Carlos E tutti quegli altri Sui 200k Così Una chance Gliela si può Sulla dente dare Stasera hanno messo Anche le icon Due anni fa Ad aprile usciva Il fenomeno Usciva Eusebio Usciva Digno Usciva Gullit Quest'anno Ad aprile escono Andrea Pirlo Sol Campbell E Drogba Ovviamente Non vi consiglio nessuno Di tre Il più carino È Campbell Che già le altre versioni Quando le trovo contro Sono un dito nel culo Però Vista la vicinanza Di Toz Tranne qualcuno Tipo un sub Mi hanno dato la squadra Aveva Bidic Per chi ha magari Bidic Quelle carte lì Ok raga Però Lascierei perdere Cioè Vi terrei Varambaz Comunque ermosso Quel carer Eccetera Lascierei perdere Sto Campbell Perché Fosse uscito un mese e mezzo fa Vi dicevo Ok adesso comunque Manca poco i Toz Raga Le alternative ci sono Eviterei di andare A spendere Non lo so Un milione Quasi Su questo Campbell La sfida di Trogba Manco ve lo dico Una vergogna Perché io posso capire Mettere Trogba Se siete fan Ci può stare Perché ci può stare Però sapete che questo Non rende Però raga Hanno fatto una sfida Con un IF 85 Un IF 83 Un IF 86 Un IF 87 Un IF 89 Cioè Costa come Mbappé Potme Se costa così Trogba R9 O non lo mettono Non lo fanno Costa 10 milioni Quest'anno Cioè 1 milione e 8 di SBC Per Trogba Moment Sul mercato Si trova già 1.3 1.4 Troppo ragazzi Troppo Troppo Siamo completamente Fuori Fuori controllo Quest'anno Con queste Icon E con gli Swap Veramente Yei male male Motore su Trogba Ombra su Campbell Pirlo Per i fan Anche qua Per Reader Ci sta Gogliardicamente In mezzo al campo Una mediano Da CC New Rombo 4-5 Raga Per ridere Questi si sbloccano Per ridere Xavi Foste uscito Era più interessante Perché Xavi Secondo me Sottova usato Il moment Questo maestro Pirlo Raga Fa quello che può Però ripeto Ci sta Cioè Quello che ci sta Di meno di tutti Se devo guardare Il meta E Drogba Questi due Ci possono stare Se devo guardarne uno E consigliarmene uno Proprio seguendo Un po' tutto Vi dico Campbell Però Nessuno dei tre Per me Va sbloccato al momento Anche perché Credo che dai Tra un po' Si muoveranno A mettere Se sbissino Siamo veramente Arrivati alla fine Ho provato anche a Tal Raga Due parole su a Tal Molto forte Però da punta Secondo me Rimane meglio Neymar If E anche No il base no È più forte Neymar base Ma l'if Rimane meglio Da esterno È più forte Di Neymar È più forte Di Mbappé base Mbappé pot Ma è più forte Quindi insomma Una carta eccezionale Eccezionale Molti di voi si trovano Anche bene da punta Non l'ho provato bene Perché ve lo dico Non l'ho provato bene Non so se lo vendo L'ho messo lì Ma non so se lo vendo Inverno Sicuramente può fare anche il CC Come vi avevo già detto Può fare un po' tutti i ruoli Nel gioco Perché le stats questo dicono Però da punta Io andrei sempre su Neymar If Ovviamente a un prezzo Molto più contenuto Neymar If Quindi A Tal Per me Se volete provare da punta Al posto di Mbappé base Neymar base O Cristiano base Ci può assolutamente stare Qualche gol se lo caghicchia Però è un gran bel giocatore E poi è un gran bel dribbling Ma ripeto L'ho provato proprio poco Quindi non vi so dire tanto Noi ci vediamo al prossimo video Che non so ancora cosa sarà Se uscirà qualcosa Sennò magari questa top 10 dei film Vi ringrazio come sempre E vi mando un abbraccio guys Spero Spero Che arriveranno presto Nuovi contenuti Soprattutto sotto i toz Perché Stiamo un po' andando sul calare Adesso pesante Onesto A presto ragazzi See you Next time